Preparava un attentato con un camion, si informava sugli attacchi con il coltello e reclutava lupi solitari. Elma di Alili, il 23enne marocchino e naturalizzato italiano, era pronto a mettere in atto un'azione terroristica. Dopo il suo arresto a Torino e in tutta Italia, sono partite le perquisizioni ed è stato accertato che l'italo-marocchino aveva allungato i suoi contatti fino a Napoli. Nell'operazione antiterrorismo portata a termine dalla questura piemontese, è stata infatti perquisita dalla Digos di Napoli anche l'abitazione di un uomo italiano convertitosi all'Islam. che risiede in un comune della zona nord-est di Napoli. Per l'uomo, per il momento, non è scattata nessuna misura restrittiva, ma nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno proceduto soltanto ad acquisire tutto il materiale che potrà essere utile all'inchiesta e che è stato poi inoltrato agli uffici dell'antiterrorismo di Roma e Torino. Cellulare, pc e alcuni fogli d'attilo-scritti serviranno agli inquirenti per ricostruire i rapporti tra l'uomo della provincia di Napoli e il giovane italo-marocchino. Gli investigatori non hanno fornito ulteriori dettagli, se non quelli di un possibile incontro che sarebbe avvenuto tra Alili e il napoletano. Alili era riuscito infatti a creare una rete capillare di contatti. Ieri perquisizione analoga a quella a Napoli sono infatti scattate in diverse province italiane, da Milano a Reggio Emilia, da Bergamo a Modena. Intanto per le feste pasquali le forze dell'ordine hanno blindato la città con decine di uomini a salvaguardare piazze e stazioni.